Bentornati, miei cari scomunicati, nel sacro ordine di CBG Games per un nuovo video dove andremo ad analizzare, questa volta spero senza tiltare, l'evento dell'anniversario che finalmente è stato rilasciato oggi in data 09 aprile 2020 su Global di Afkarena. Quindi andremo a vedere un po' di cose, abbiamo fatto il boss, abbiamo trovato la team comp per farlo al 100% in late game, vedremo se riusciremo a trovare anche qualcosa per il mid game o comunque qualcosa che ci vada vicino, il viaggio delle meraviglie l'abbiamo già clearato con il video che ho fatto uscire ieri quindi per quello siamo a posto, analizzeremo per bene tutti gli aspetti dell'evento senza tiltare perché tanto non hanno cambiato un cazzo e quindi questo è, questo ci dobbiamo sciucciare, cercheremo di farlo in maniera più spirituale possibile, mettiamola così. Io ringrazio di essere qui con me, lasciate un pollicione up se il video vi piace e possiamo cominciare. Primo anniversario, daily login, avevamo già visto qualcosa, per l'appunto i premi sono scandalosi, però abbiamo la possibilità poi al settimo giorno, al settimo collect insomma di prendere questa chest e qui ragazzi ovviamente Tasi non è farmabile quindi può essere utile da prendere, ambiente fredda insomma ragionando, Shemira dovreste già averla quindi diciamo che proprio proprio se ve ne manca una ma comunque c'è il labirinto per farmarla. Ecco Wukong quasi quasi sarei più propenso a prenderlo piuttosto che Shemira, Shemira comunque è facile che esca invece Wukong è un pochino più difficile, Brutus non è così game changing quindi cioè comunque ce lo dovreste avere nella wishlist. E Oscar sì, sembra buono ma ancora ci mancano un po' di test seri per poter dire se prendono o no. Vi consiglio comunque di aspettare per prenderlo magari arrivano nuovi aggiornamenti ma io prenderei Wukong così a pelle. Poi anche Tasi non è male ma io prenderei Wukong. Questo è il mio consiglio sulla chest del primo anniversario. Poi abbiamo da vedere il boss che come anticipato per l'appunto quando abbiamo parlato nelle live a proposito di questo boss che il casino sarebbe stato comunque della gente in mid game. Ho già provato ieri sera al rilascio alle due con i ragazzi che erano rimasti dopo la live su Discord. L'abbiamo provato, togliamo tutto praticamente come funziona, lo mettiamo per uno così lo vediamo velocemente. Allora noi dobbiamo aspettare, cioè non c'è proprio tantissima strategia, dobbiamo aspettare che tutti abbiano la ulti piena, tutto lì, soprattutto Baden. Perché una volta che Baden ha la ulti piena, sgrandiniamo la prima ulti. Ora il boss ha messo la maledizione su Baden. Partiamo con tutte le altre ulti e state a vedere che succede. Lo sbricioliamo senza arrivare nemmeno, cioè lo barstiamo praticamente. Lo barstiamo. Me lo immaginavo che si potesse fare con Scimile e Rosalind, per l'appunto come vedete ci ho messo anche un pochino di più rispetto a ieri sera. Ieri sera a 55 secondi l'avevo fatto 100%. Il problema per l'appunto non era, come vi ho detto diverse volte, io non mi stavo incazzando per l'anniversario, per me. Mi stavo incazzando per chi è in mid game e per chi è in late game. Perché mi stanno arrivando delle notifiche di gente che in mid game soprattutto non fa proprio zero, cioè fa zero. Fa bestemmia in 15 lingue diverse. E invece chi è in late game ma non ha, per esempio, le gemelline, oppure Rosalind con Scimira settate o Baden, eccetera, ha delle difficoltà. Questo chiaramente, questa è la team comp, ragazzi, che io uso anche per barstare Vritz. Cioè, diciamo che uno potrebbe sostituire Scimira con Belinda tranquillamente, ma proprio tranquillamente, ovviamente dipende dal livello d'ascensione che c'è là. Cioè, se uno comunque le sta portando avanti di pari passo, può tranquillamente portare Belinda come main DPS insieme a Rosalind. Le mettete frontline perché con le gemelline condividete le statistiche, quindi non muoiono molto facilmente. Baden serve per pushare danno con i fantasmini che aumenta il danno che prende il boss. E Rowan, vabbè, serve per le cure e poi per far sgrandinare ulti di continuo. Molto, molto, molto semplice, dal punto di vista endgame. Poi, molti chiedevano quali possono essere le sostituzioni per questo team se uno non ha Elijah Laila oppure Baden. Allora, Elijah Laila si può sostituire con Stilda, non è la stessa cosa, ragazzi, chiaramente, però comunque non fa uno sporco lavoro. Se non avete nemmeno Baden, e lì sono cazzi, potreste giocare anche Belinda, potreste giocare una team comp di questo genere. Dovreste stare un pochino più attenti, chiaramente, al rilascio delle ulti, ma secondo me potremmo provare. Il fatto che comunque Belinda io ce l'abbia leggendaria più potrebbe crearmi non pochi problemi. Però, dai, vediamo un po' chi si riesce a combinare così. Ah, togliamo l'auto. Allora, l'obiettivo praticamente qui sarà di aspettare sempre che le ulti siano tutte up, ma questa volta di tenere d'occhio come sta andando la vita dei personaggi. Perché l'obiettivo non sarà barstare questa volta, perché non abbiamo Elijah e Laila che ci fanno partire la giostra e Baden che ci fa partire il danno, ma magari aspettare un pochino di più. Probabilmente in realtà se sgrandiniamo ora... Boh dai, leviamoci il dubbio. Vediamo che succede. Sì, probabilmente se sgrandiniamo ora ci basta, o forse non è detto. Ok, è ripartita un'altra ulti. Vediamo un po'. No, forse così non ce la facciamo, infatti. Se Rosalind facesse partire un'altra ulti, forse sì, ok? Sì, ce la facciamo lo stesso. Questo è un altro esempio di team comp, ragazzi. Come vedete, 100% fatto con tutti i personaggi, niente di particolare. Shemira, Rosalind, Belinda, Rowan e Strilda con Belinda, Leggendaria Più e Strilda Elite Più e gli altri tre ascesi, ma sono endgame inoltrato. Quindi diciamo che questi due non vale che stiano così. Cioè, sarebbe un problema se fossero così in una situazione normale. Cioè, si può rompere, il boss si può rompere con Rosalind. Tutto lì, con Rosalind lo rompe il boss. Il problema è per chi non ha Rosalind in mid-game. E che allora devo usare delle team comp particolari. Purtroppo non ho ancora trovato un account mid-game con il quale provare il boss sull'official. Perché noi dello staff abbiamo tutti account perlomeno in late-game. E quello sul test server possiamo fare delle prove per cercare di massimizzare al meglio. Purtroppo non si può andare tanto più avanti. Questa era l'ultima team comp con cui ho fatto più o meno più danni. Cioè, tra molte virgolette. Perché poi non siamo arrivati, se non mi sbaglio, oltre. Voglio vedere, perché questa era una prova che non avevo fatto. Perché mi ero fossilizzato su Ukyo. Secondo me con doppio DPS e Mage possiamo combinare qualcosa di interessante. Allora, allora, allora. Dovemmo esserci così. Proviamo a iniziare. Togliamo l'auto, lo lasciamo un per due perché tanto non siamo sicuri delle possibilità. Wukong possiamo utilizzarlo per poter sgrandinare la ulti subito. Perché tanto si bugga, tra virgolette. Cioè, sparisce dalla ulti e non prende danno. Ok, dovemmo esserci. Un pochino meglio. Allora, facciamo partire la ulti di Belinda perché tanto sta per morire. Così almeno i nostri alleati faranno un pochino più di danno. Facciamo partire anche la ulti di Estilda così almeno prende la skill e anche lei avrà danno pusciato. E ora possiamo cominciare a sgrandinare. Eh, no. Ci vanno giù abbastanza alla svelta. Però, diciamo, ci siamo... Ok, appena esce... Ah, è finito il tempo. Ci siamo portati a casa un 65% del danno. Non è eccezionale, non è niente di particolare, però, insomma, già meglio del 20-30% che mi state documentando su Telegram e sui commenti per il mid-game è qualcosa. Potremmo pensare di fare qualcos'altro. Se avete Kasos, ragazzi, soprattutto per chi è in late-game e magari Kasos ce l'ha un pochino più alto, Kasos permette di curarsi con gli attacchi base e con le skill e vi può essere molto utile per pushare ancora di più. Il problema qui è che non abbiamo altre grosse possibilità. Perché? Perché Rowan è morto così? Ma no, da manà... Ma no, da manà... Completamente a caso. Cioè, per tre volte è andato tutto bene e ora Rowan muore a caso. Chiaramente, raga, se avete Baden che vi regge un pochino di più... Baden, sfruttatelo, perché Baden... Io, purtroppo, non lo metto perché mi esplode in mezzo all'anosecondo. Baden, chiaramente, dà un bel boost ai danni. Vi consiglio di utilizzarlo. E quindi, niente, raga. Allora, dipenderà chiaramente tanto dai personaggi che avete e se avete la possibilità di provare con personaggi diversi, ma ne dubito, in mid-game è veramente complicato avere altri personaggi. Fate con quel che riuscite a fare, cercate di fare tante prove e cercate di massimizzare. Un'altra cosa, ragazzi, che c'è da dire è che Tain bugga il boss. Un'altra cosa che abbiamo notato. Vi faccio vedere cosa succede con Tain, ragazzi. Così, giusto per darvi un ultimo tip. Ah, non ci fa l'audio perché l'ho disattivato qui, ecco, perché... Allora, togliamo l'auto. Mettiamo il P2, perché sennò c'è scu' stupido. Allora, io ora lancio la ulti di Tain, ragazzi, guardate. Guardate la ulti di Tain. Non è stato maledetto. Ok, ora sì, perfetto. Allora, sì, hanno fixato qualcosa, lo prende poi più in là. Praticamente, se voi gli mettete Rosaline addosso con Tain e gli buttate e lo fate ultare di continuo, praticamente con le ulti do già la skill quella che lo butta giù. Come vedete, non sta andando giù, non si sta prendendo danno, nonostante sia maledetto, non si capisce perché. Però così è, quindi, regà, questo è un altro modo. Ora, non faremo probabilmente il 100%, ragazzi, perché mi sembra... Infatti, non ce la facciamo. Ci arriviamo vicini, ma non ce la facciamo. Comunque, anche questo è un modo per giocare il nostro Azmonath. Quindi, lo fate seguire da Rosaline, oppure, comunque, fate una team comp, magari con Laika, che dovrebbe abbassare la difesa. Non ho fatto delle prove, ma mi sembra di sì. Oppure, giocate con Estrilda, comunque, personaggi che danno buff all'attacco, eccetera. Tain e Rosaline, se lanciate le ulti di continuo, soprattutto quella di Tain, cioè lanciate la ulti di Tain, poi aspettate che finisca appena viene marchiato, oppure, se no, non lo fate neanche marchiare. Gli fate subito ripartire la ulti, se ce la fate con l'energia, e poi così via. Insomma, o gli potete mettere la chiamata di Dura, insomma, fate delle prove. Comunque, Tain, come vedete, lo bugga Azmonath, questa è una cosa... Ok, poi, abbiamo da dire un'altra cosa, molto, molto importante. Abbiamo fatto le prove di Ukyo in endgame, sull'official, poi le abbiamo fatte anche in lategame e in midgame, sempre sull'official, e, regà, secondo me c'è qualcosa che non torna. Nel senso che ci sono delle discrepanze grosse fra Ukyo nell'official server e Ukyo nel server normale. Vediamo velocemente, questo vabbè, qui mi sderenano, però c'è praticamente molta gente lamenta del fatto che... Ok, ora sembra... come vedete va giù abbastanza alla sberta, poi l'immune ce l'ha. Ora, in questo caso ha durato un pochino di più, quindi forse qualche cosa hanno già fixato. Comunque, insomma, la gente lamenta che va giù come un pesce lesso, e su questo, vabbè, se lo mettiamo qua sopra, ragazzi, conto due mage, quindi... In questo caso ha fatto schivate in Mune, eccetera. Ok, forse hanno fixato qualcosa per i movimenti, eh sì, perché... Eh... sì, ha durato un botto, poi ora muore come un coglione, però, eh sì, qualcosa devono aver fixato, perché ieri sera, ragazzi, sempre stesso stage, se facevamo inizia la battaglia, esplodeva. Perché ci sono... abbiamo riscontrato dei bug, anche nei movimenti di Ukyo, perché sembra che non abbiano... cioè, che abbiamo avuto i problemi. Come vedete, lascia un'immagine residua, ragazzi, con anche una barra della vita residua. Quando si sposta, si ha subito dei danni Ukyo. L'immagine dell'Ukyo nuovo, cioè di quello che poi sarebbe l'Ukyo in tempo reale, che si sposta in avanti, ha la barra della vita piena, e quindi, giocando in x2, può sembrare che il personaggio, tipo, non subisca danni e poi li subisca tutti insieme. E quindi, è una cosa, insomma, che abbiamo visto anche ieri sera su Discord, con i ragazzi. Ci sono un po' delle dischefazze. Io credo che abbiano già fixato qualcosa, perché mi sembrava un po' strano. C'erano veramente delle differenze enormi. È prelate. Ha fatto un hotfix. Vediamo se parlano di qualcosa. Minchia, quanta... Eh, infatti, attack range. Parlano di animazioni. Infatti, come vedete, c'erano questi problemi con la barra della vita, sempre su Ukyo. E secondo me hanno qualcosa che non andava... Cioè, c'è ancora qualcosa che non va. Però, insomma, comunque ragazzi, la buona notizia è che l'abbiamo provato in endgame e non fa niente di particolare. Quindi, non shoppatelo se non per puro collezionismo. Tanto non ci interessa. È un personaggio come gli altri. Anzi, meno degli altri per alcuni aspetti. Quindi, niente, ci accontentiamo che comunque non hanno rilasciato un personaggio come era sul test server. Perché comunque, raga, io credo che abbiano cambiato qualcosa per la via a proposito di Ukyo. Perché anche ieri sera in live, e tanta gente lo può confermare che era in live ieri sera, la discrepanza fra il midgame, due account proprio midgame, uno test server e uno official, era assurda. Cioè, midgame nell'official faceva vomitare, entrava e moriva nel test server delirio. Stessa cosa in lategame. In endgame non abbiamo avuto modo di provare, purtroppo. O hanno cambiato qualcosa, oppure gli è uscito male e gli si è buggato qualcosa. Allora, abbiamo da vedere, da parlare seriamente ora. I fiorillini si farmano anche nell'AFC Rewards, quindi c'è la possibilità comunque che li troviate anche qui. Eccoli qua. In qualche maniera, insomma, cerchiamo di fare qualche calcolo. Sicuramente se non siate sfortunatissimi, riuscirete a prendere almeno due personaggi. Cioè, uno che sarà, se non avete Lucius, Lucius sicuramente. Altrimenti, se avete Lucius, vi dico la verità, qui secondo me si prendono gli emblemi. Perché tutti gli altri sono personaggi bene o male farmabili. E non vale la pena di andare a pushare quando abbiamo anche gli emblemi. Gli emblemi sono molto molto utili per tirare sulle SI. Anche fare una doppia rush, beccarli due volte senza andare a prendere Khazard o Orthros, che sono questi due. Secondo me può valere la pena, perché comunque sono personaggi che non si vedono mai. È vero che se non li inizi a farmare non li avrà mai. Però è anche vero che in questo caso mi sembra che non valga proprio tantissimo la pena. Comunque, questo è molto molto utile. Io lo prenderei in considerazione. Anche per chi non è in endgame, ragazzi. Cioè, prendete Lucius se non l'avete ancora sceso, perché Lucius è fondamentale. E poi dopo prendete questo, secondo me. Cioè, come seconda possibilità. Qualcuno dice anche che arte dello Stargazer, ma 15 a me ne sembrano un po' poche. Se vi sentite fortunati, ragazzi, dello Stargazer può uscire anche 30k gemme e una copia del personaggio vi ci vuole. Ma io non rischierei, ecco. Poi abbiamo da parlare velocemente di questo. Di Tasi, che una cosa che non avevo detto nell'analisi tiltata di lunedì è che, comunque, se facciamo i tris o... Insomma, praticamente una mappa tipo... Sì, ho capito. Ti vuoi levare dal cazzo, mira, il di merda? Se fate, tipo il bingo, se fate, diciamo, tutta la colonna o tutta la riga, vi dà dei premi. E sono questi qua. Qui, ragazzi, cioè, per me si prende l'essenza. Per me si prende l'essenza con torta qui. Sono tutte uguali le casse, soltanto che queste qui ne dà due. Qui per me si prende l'essenza, anche se ci sarebbe la polvere viola, ma secondo me l'essenza è tanta tanta roba in più rispetto alle altre. Potreste dire di prendere, cioè, per esempio, sono 5 qui e 6 qui, quindi sono 11. Potreste prendere 22 scroll per fare summon, ma non ne vale tanto la pena. Invece così, raga, con l'essenza con torta diciamo che qualcosina ci si fa. Anche se probabilmente non le farete tutte, perché comunque molti di voi non shopperanno per principio e fanno bene, ragazzi. Fanno bene, perché, cioè, vi dico la verità. Al di là del prezzo, al di là di tutto, cioè, secondo me non si meritano di essere premiati per quello che hanno fatto con questo evento dell'anniversario. Anche perché, ragazzi, cioè, abbiamo finito qui. Cioè, queste tasi, cioè, facendo le varie cose, insomma, grossi premi, come vedete, scatole de merda, niente di particolare. A parte il premio, giustamente, dove shoppi, che anche se, vabbè, shop in euro, è vero, ti dà anche altre 300 gem e ti fai pure la skin di tasi. Però, regà, andate via. Capisco che qualcuno potrebbe volerla prendere per un euro alla fine, sti gran cazzi. Per me è più che altro una questione di principio. Abbiamo da vedere un'altra cosa, perché nella società nobiliare, ma ancora non l'hanno rilasciato, io, regà, non riesco a capire come mai. Ci dovrebbe essere un altro evento qui, non chiedetemi come mai non lo vedo, ma ci dovrebbe essere un altro evento qui, che non mi ricordo, tipo, si chiama premi gustosi, qualcosa del genere. Ci sono casse di diversi genere, di diverso tipo, che danno gold, polvere e esperienza, insomma, fan cagare. È un evento de merda, non fatelo. E poi, niente, c'è il viaggio delle meraviglie, avete visto il video, il premio fa schifo, fateci sapere come vi andrà il pool. Io speravo che cambiassero qui i confini della foresta. Questo è quanto, a proposito dell'evento dell'anniversario, vi ricordo che anche stasera siamo live su Twitch per discutere di diverse cose, vedere cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto. Probabilmente proveremo a cercare una team comp mid-game, se qualcuno mi presterà l'account, proveremo a cercare una team comp mid-game per battere Azmonat. Se siete interessati anche a questo argomento qua, se no, ci troviamo anche giusto per chiacchierare un po', parlare di varie cose, fare varie prove. Insomma, vediamo un po', abbiamo da parlare sempre di PvP, di altre robe particolari, insomma, abbiamo un sacco di roba ancora da analizzare. Quindi, io vi ringrazio di essere stati con me, lasciate un pollicione up se il video vi è piaciuto. Purtroppo gli eventi anniversari sono questi e ce li dobbiamo sciucciare così. Quindi, famose il meglio da quello che viene fuori, perché più di così non possiamo fare. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi ricordo che in descrizione trovate i canali Twitch, Discord, eccetera. Purtroppo Discord a volte si bagga il link, comunque se siate in live ve lo passiamo aggiornato in tempo reale. Ci sono anche Instagram e Facebook dove io posto gli aggiornamenti ogni giorno. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sugli usciti nuovi video. Io vi ringrazio, sono Sevici e noi ci vediamo prossimamente per un altro video oppure stasera in live. Io vi ringrazio di iscrivervi al canale.